Miglior film festival di Chicago, miglior film festival di Toronto, migliore attrice, miglior film festival di Cartagena, migliore attrice festival di Cannes, Oscar 1986 per il miglior film straniero, la storia ufficiale, un film osannato dalla critica internazionale. Luis Buenzo ha realizzato un film ardente e appassionato, New York Times, un film di intelligenza e profondità ineguagliabili, Los Angeles Times, un'interpretazione che sappiamo non potrà essere dimenticata, Times, la storia ufficiale è in parte denuncia, in parte thriller, in parte tragedia, un film affascinante, Chicago Sun Times, la storia ufficiale è un'opera sorprendente, uno dei pochi preziosi film dell'anno, Houston Post, Superbo, andatelo a vedere, Denver Post Un film straordinariamente intenso e irresistibile, un dramma che commuove profondamente e infine travolge, Hollywood Reporter Chiunque lo veda ne rimarrà commosso fino alle lacrime, è senz'altro uno dei migliori film dell'anno, Chicago Tribune Sovrasta ogni altro film, Sunday Times Norma Alejandro merita tutti i premi che ha ricevuto e tutti gli altri che senza dubbio riceverà ancora, Deosserva La storia ufficiale appassiona come un thriller, emoziona come un melodramma, in forma indigna come un documento, Elf È un bel film, intenso e allarmante, La Repubblica, la storia ufficiale